questa è la scienza ecco mi si perdoni l'inizio come un famoso canale però veramente cerchiamo di capire un attimo così velocemente chiacchierando senza pretese mi perdonino i filosofi gli epistemologi della scienza ma che cos'è questa scienza perché oggi nel fuffa marketing e mi perdonino di nuovo perché anch'io sono marchettaro a volte sono un po fuffarò alla volte perché in fondo la fuffa vedremo è parte della scienza però questo è scientifico scientificamente provato evidence base ma cerchiamo di capire che cazzo è sta scienza la scienza parte da ipotesi parte dal dubbio domande discussioni sono le 3d della scienza dubbio le certezze c'è dal marketing la scienza cambia idea come cambia fa delle domande crea delle ipotesi fa degli esperimenti esperimenti tanti uno non fa scienza un esperimento fatto in vitro non vuol dire che quella roba funziona sulle esseri umani bio e cares del cazzo svegliatevi è un esperimento su animali sui topi non hanno il nostro metabolismo porca miseria lasciateli perdere sti marchettari dall'america che vi vogliono predare il vostro sedere coi loro prodotti e la scienza si fa con la discussione con tanti esperimenti tanti e con la discussione tra tante persone ma tra pari non sui forum di reddit non tra coi cretini deve essere fatta con gente che capisce questo metodo perché la scienza ha un metodo non è alla cazzo è un metodo vuol dire che la maggior parte di questi esperimenti saranno dei fallimenti non voglio dar percentuali perché saranno tutte sbagliate sicuramente ma gli sbagli sono di più delle certezze se andate a leggere un po di letteratura ad esempio degli integratori dei supplementi che mi maggior parte o sono effetti blandi oppure è fallito quell'esperimento a volte qualcuno prende effetti blandi e col marketing questo sperimento cura questa sostanza che io vettivendo cura l'alzheimer no e dopo gli esperimenti dopo la discussione dopo tanti esperimenti c'è tutta una gerarchia poi se volete la vedremo ci sono delle teorie ma sono chiamate teorie perché sono teorie le teorie non sono le ipotesi nascono dopo sono delle mappe sono dei modelli che hanno dentro degli sbagli quindi la scienza è il miglioramento continuo può essere solo meno sbagliata non è giusta quello il fuffa marketing la certezza è scientifico vai tranquillo è marketing poi per chiudere non ci dimentichiamo che esiste la pragmatica sopra la scienza c'è quello che applichi e funziona ma funziona per te perché in una distribuzione gaussiana della popolazione non c'è mai ed è questo il problema della scienza che include tutto il ragionamento sulla statistica che bisogna avere due coglioni così per fare esperimenti è che poi bisogna analizzarli e su persone diverse soprattutto negli umani nella salute eccetera ci sono risultati diversi quindi non discuto con la pragmatica se applico una cosa e funziona per te può essere anche effetto placebo non te lo dimenticare che negli esperimenti su esseri umani va calcolato e allora va bene cosa ti sia pratica ma non lo predicare perché poi per la sua amica non si sa cosa succede ma sopra alla scienza c'è la pragmatica ma sopra la pragmatica c'è la tecnologia quindi l'ingegneria che ci dona dalla scienza partendo da dei modelli ci dà degli strumenti una tecnologia che se è basata su quelle teorie mappe modelli che possono solo migliorare o ci dà quegli aggeggini che ci piacciono tanto ci dà insieme alla tecnologia ci dà il trucchetto magari basato su qualche ricerca che tu provi con la tua pragmatica e magari funziona ma sempre per te devi stare attento a generalizzare è nostra colpa di noi divulgatori a volte dire apro quello bisogna dire guarda che una metodologia non è un metodo tu sei al centro dei tuoi esperimenti personali ecco nella tecnologia ci sono appunto trucchetti tecnologia e anche le pilloline ci sono supplementi che sono validati da ricerche non su animali in vitro non solo su quelle ma anche su esseri umani con un metodo che si chiama randomized control trial che con più esperimenti si fa una meta analisi o meglio una revisione sistematica e poi si vede che quel supplemento lì magari adatta a te ti ho già detto c'è un sito examen.com non c'è il mio link affiliato lo sto consigliando così come ti consiglio wikipedia perché purtroppo ci sono una marea di fonti di disinformazione su tutto sulla scienza quindi stai attento quando vedi un annuncio sui social che ti dice questo è il nuovo metodo scientifico per aumentare la tua performance bevi l'acqua san pellegrino quello scusate societato un marchio commerciale non ho nulla contro quest'acqua questo è il metodo magico mangia questa pillolina è scientifico ma è scientifico un cazzo bisogna me lo devi dimostrare se fai affermazioni certe e audaci o sei un fuffarolo e quindi ti devo escludere oppure in qualche modo mi devi fare vedere questi esperimenti questa discussioni tra pari queste teorie da dove vengono in modo che le possiamo vedere e questo vale tutto a meno che ovviamente l'ingegneria ti produce una tecnologia un nuovo ipad che fa una cosa e quello ce l'hai davanti e lo vedi e lo provi subito questa è la scienza un grosso abbraccio seguimi su sui canali telegram cerca quattro lettere zio h su youtube tutti i posta cerca podcast cerca sempre zio spazio h ck e lì magari parliamo di miglioramento personale il più possibile evidence base sapendo che non sarà mai giusto al 100 per cento per tutti ma cercheremo di essere meno sbagliati degli altri perché questa è la scienza è la scienza